Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere, un appuntamento un po' particolare perché è l'ultimo di quest'anno, quindi di questa stagione 2019-2020. Questa volta parleremo della corretta alimentazione durante il periodo estivo, infatti sta per arrivare l'estate e quindi soprattutto quest'anno che veniamo da un periodo così difficile, c'è ancora di più la voglia di mare, di montagna o comunque in generale di vacanze. L'estate infatti ci dà l'opportunità di stare di più all'aria aperta, quindi di passeggiare, ma anche di mangiare fuori con gli amici, sempre nel rispetto ovviamente di quelle norme sanitarie e dei dispositivi di protezione che ci vengono giustamente richiesti e che dobbiamo rispettare. L'estate però è anche il periodo in cui possiamo pensare di più alla nostra salute, è una cosa che dovremmo fare ovviamente sempre durante tutto l'anno, ancora di più chi soffre di determinate patologie, però soprattutto quest'anno che veniamo da un periodo di quarantena forzata, che ha squilibrato la dieta e l'alimentazione di tanti italiani, dobbiamo porre in essere delle regole generali per affrontare al meglio questo periodo estivo. Infatti l'estate con le alte temperature ci porta un po' a un rallentamento dei processi digestivi, a maggiore sudorazione, quindi con un rischio anche di disidratazione, di perdita di sali minerali e di vitamine. Quindi cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto avere una corretta idratazione, quindi cercare di bere almeno due litri di acqua al giorno, un tipo di acqua preferibilmente naturale. Questo vale soprattutto per esempio per gli anziani e per i bambini che non avvertono tanto il senso di sete, ricordando anche che è una falsa credenza quella che bere di più d'estate ci faccia sudare di più. Ovviamente non dobbiamo bere un'acqua molto fredda per evitare il rischio di congestioni, però possiamo bene anche dei frullati, dei centrifugati di frutta e di verdura, evitiamo invece le bevande gassate, le bevande alcoliche e cerchiamo anche di aiutarci magari con delle tisane fredde che ci aiutano a raggiungere il giusto grado di idratazione. Mangiamo anche dei cibi molto ricchi di acqua, quindi preferibilmente frutta e verdura e ci permettono di reintegrare sali minerali importanti come il magnesio, il potassio, ma anche tutte le vitamine. Durante l'estate è opportuno anche moderare un po' l'apporto calorico totale e quindi prediligere dei pasti molto freschi, leggeri, con dei metodi di cottura molto semplici, quindi al vapore, a forno, alla griglia, che permettono anche di esaltare le proprietà nutrizionali degli alimenti. Nello specifico cosa possiamo fare? Sicuramente di evitare i formaggi grassi, le fritture, le canni rosse, i sughi molto conditi, molto elaborati, a favore invece di cereali integrali, quindi pasta, riso, anche sotto forma di insalate, quindi di paste fredde o di insalate di riso, prediligere il pesce azzurro, le carni bianche, frutta e verdura, come abbiamo detto, magari con degli spuntini che possono essere a base di yogurt oppure dei sorbetti artigianali alla frutta o ad esempio delle granite. Moderiamo il consumo di sale in favore delle spezie, cerchiamo di variare in generale il più possibile l'alimentazione, facendo attenzione anche ai tanti colori che troviamo nei cibi, perché ogni colore vuol dire una ricchezza di molecole, di nutrienti, soprattutto di sostanze antiossidanti che fanno bene per la nostra salute. Facciamo attenzione anche ai metodi di conservazione degli alimenti, soprattutto durante l'estate per la catena del freddo per quegli alimenti che lo richiedono. Ovviamente poi estate vuol dire anche come abbiamo detto voglia di mare, quindi anche di avere una bella abbronzatura. In questo ci vengono in aiuto il beta carotene, che è questo pigmento che dà un colore dal giallo al rosso a determinati alimenti e alcuni cibi che lo contengono di più sono sicuramente le abicocche, le carote, il melone, il pomodoro, i peperoni, ma tanti altri. Ricordiamo però che il beta carotene in generale ci aiuta ad ottenere una abbronzatura più bella, però non ci protegge dai raggi UV del sole. Quindi quando ci esponiamo al sole dobbiamo fare sempre con attenzione, proteggendoci anche con delle creme, seguendo i consigli del dermatologo e comunque in generale esponendoci in maniera progressiva ai raggi del sole, non nelle ore ovviamente più calde. Bene, detto questo, come vi dicevo all'inizio, è l'ultimo appuntamento per quest'anno con la rubrica nutrizione e benessere, ritorneremo a settembre e prima di chiudere volevo ricordarvi i contatti, quindi potete sia approfondire questo argomento di oggi attraverso i social di Cilento Channel, quindi sulla pagina Facebook e sul sito, oppure sulla mia pagina Facebook, studio nutrizione e benessere, per chi volesse scrivere lo può fare attraverso l'email nutrizionericci.it. Però volevo anche ringraziare coloro che hanno reso possibile ancora un altro anno di questa rubrica, cioè il direttore di rete Gianni Petrizzo, la direttrice del regionale Raffaella Giaccio, i ragazzi Andrè e Gerry che grazie a loro, che questa rubrica va in onda e va in onda da così tanto tempo e che tornerà a settembre sempre su Cilento Channel. Ciao a tutti e buona estate!